Il bello del calcio moderno offre subito una chance per riscattarsi, complice a un calendario intenso. Il brutto del calcio moderno offre poco tempo per recuperare tra un impegno e l'altro, complice lo stesso intenso calendario. Due facce della stessa medaglia per la Fidelisandria di Ciro Ginestra, chiamata a tornare in campo mercoledì sera dopo il K.O. di Latina, esiziale per l'avventura in bianco-azzurro del DS Alessandro De Giesposti e con vista sulla Coppa Italia di Serie C. Tappaffoggia per il derby dello Zaccheria, impegno che Ciro Ginestra valuta come. È una gara ufficiale che ci permette di giocare dopo quattro giorni una partita che per noi può avere un valore, perché comunque sono gli ottavi di Coppa Italia, di valutare qualche giocatore che magari ha giocato meno e quindi abbiamo tutte le possibilità per poter fare la nostra partita contro una squadra forte, una squadra che un mese fa ci ha battuto 3-0, quindi sicuramente dobbiamo avere qualcosa in più sotto quell'aspetto, magari uno spirito diverso. Abbinare prestazione e risultato sarebbe la medicina adatta per cancellare la sconfitta di Latina, dall'altra parte però Ginestra deve fare i conti con il turnover, obbligato dalle assenze di Alcibia della Cassia Bordine di Noia con Carullo Acciaccato, legato dall'altra parte anche alla volontà e necessità di ruotare forze e preservare energie in vista della sfida casalinga di domenica prossima in campionato contro il Palermo. Se portare dietro qualche infortuno anche pesante, nel senso che comunque avremo 3-4 giocatori sicuramente non disponibili, ma ti ripeto, l'ho già detto in conferenza, abbiamo la possibilità di valutare tanti ragazzi giovani che hanno fame, che hanno voglia e quindi sicuramente sotto l'aspetto della prestazione dobbiamo fare una buona prestazione, poi il risultato sarà figlio anche di quello che avremmo fatto, speriamo di aver fatto una buona gara soprattutto ai termini di prestazione, di agonismo e di tutto quello che ci è mancato a Latina. Il match contro i rosa-nero siciliani avvierà un novembre ad alto coefficiente di difficoltà, l'Andrea sfiderà anche Paganese e Messina in trasferta e il Bari in casa, con una certezza espressa dalla società per voce del presidente Aldo Rosselli e ribadita dallo stesso Ginestra commentando il sollevamento dall'incarico di Dei Esposti. Non ci sono più alibi. Io non entro in merito a quello che è la scelta della società perché faccio l'allenatore, ho già parlato in conferenza di Alessandro, per me è un grande conoscitore di calcio, un grande professionista, però la società ha fatto una scelta probabilmente ponderata e adesso sta anche alla squadra a capire che non ci sono più alibi perché hanno mandato via l'allenatore, hanno mandato via il direttore e adesso non c'è più da mandare nessuno via e cercare di andare avanti noi stessi facendo un gruppo e cercare di fare dei risultati.